mamma mia sti ragazzi che non mi sentono ma ragazzi ma voi mi sentite ragazzi scusami Gianluca ma davvero sti ragazzi stupidi o fanno finta di non sentirmi o non sentono perché c'è un problema a sto aggeggio ragazzi non mi sentono sti stupidi adesso si prof allora mi senti perchè non rispondete allora ma ragazzi ma perchè non siete vestiti e avete il pigiama addosso ancora alle 8 di mattina avete ancora il pigiama addosso eh si no ragazzi vi do 5 minuti per cambiarvi subito perchè io vi devo educare anche al mondo del lavoro non va bene così presentarvi in pigiama ma scusa ma abbiate un po' di pudore almeno chiudere la telecamera no ragazzi andate subito a cap dai 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 andate subito a cambiarvi come io mi sono cambiata apposita per voi ragazzi come vi stavo dicendo fa niente se sono o se sono venuto un po' di tardi ma mi sentite bene scusate ma ho un po' di mal di trossa ragazzi non mi interessa se la lezione inizia alle 8 del mattino io la voglio iniziare alle 7 se qualcuno adesso non entra in video lezione avvisate i vostri altri compagni io lo metto assente perchè io devo spiegare tantissime cose e non posso più perdere tempo no nessuno adesso mi fa domande faccio subito l'appello faccio subito l'appello e chi non c'è assente per tutta la giornata mi dispiace ragazzi mi vedete? ok benissimo fa niente anche se mi vedete un po' in grande non so cosa abbia sto aggeggio non riesco tanto a usarlo ma fa niente basta che vi vedo detto ciò iniziamo a interrogare vediamo cosa mi avete scritto però non la sentiamo sì 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 certo se nessuno mi sente siete sicuri? ti schifo mi sentite ancora o no? ditemelo no perchè voglio accertarmi please guys today noi parleremo di London london vi chiedo di prendere tanti appunti e se qualcosa non l'ha capito please 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 fermatemi non aspettate fino a quando spieghi 10 pagine e poi mi dite prof non ho capito please allora l'appello lo faccio dopo va bene perchè adesso non ho tempo fa niente dai dopo se no vi ho messo tutti assente e vi fa niente ok allora london parliamo di london scrivete please 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 write 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 vai dai 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 Katyusha Katyusha ti vedo dai dai brava scrivi write 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 ok se qualcosa se qualcosa qualcosa scusate sono un po' english e british se qualcosa non l'ha capito please please fermatemi non lo ripeto più perchè davvero sono stanca ok ti e ti e ti e ti e ti e Grazie a tutti.